La ripartizione dei fondi del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza destinati al contrasto alla dispersione scolastica ha suscitato dubbi nei rappresentanti della GGL e dell'FLC GGL di Caltanissetta, i quali hanno chiesto un incontro con il prefetto Chiara Armenia. I rappresentanti sindacali hanno segnalato che solo un terzo delle scuole siciliane ha ricevuto la prima tranche dei fondi del PNRR e tra queste non sembrano esserci istituti che operano in contesti difficili, dove l'indice di dispersione scolastica è più alto della media nazionale e, sempre secondo la segnalazione della GGL, è incomprensibile l'assenza tra i destinatari dei fondi, dei circoli didattici e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Finora la prima tranche dei fondi nel nostro territorio è stata concessa a nove istituti superiori di Caltanissetta, a cinque di Gela, a due di Mazzarino e a uno di Santa Caterina.